www.feyyaz.com 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 Che vuoi? Vicequestore Rocco Schiavone. Le devo parlare. Io non so niente. Mortasci! Rocco, mi spieghi? Da dove prendi tutti questi soldi? L'ho fatto la cresta. Qualche carico di marijuana sequestrato. Porca puttana, Schiavone! Questo è illegale! www.feyyaz.com Che ha fatto? Ma che fai le domande? Ma deve star zitta! Ma che è sta roba? Ma butti sti cazzo dei pupazzi che fanno schifo. È il cartello delle rotture da coglioni. Si parte dal sesto livello e si arriva al decimo. Il mio nome? Si, perché sei una grande rottura da coglioni. Ragazzi, portatela qui. Mi raccomando, eh. Piano che mi si sciupa. Era italiana o straniera? Io credo sì. Non so. Hai capito? Ma così mi ricoglionisce. E questa se tu la lasci nell'acqua, arriva all'oceano Pacifico. Demonia si chiama. Che poi sono indagato, secondo me, un nome finto. Indaga bene. Sta manco l'usante. Ci posso venire all'obitorio? Deve essere meglio che un film horror. Se tu continui a mangiare così, vedrai che dopo il bidone vada su. Io finalmente me ne sarò qui a contemplare la vita. È maschio o femmina, De Luta? È appunto, dottore. È maschio. Le chiedo gentilmente di tornare a fare il suo lavoro, con serietà. Ho pensato di mettergli il telefono sotto controllo. Ma non è possibile. Ma l'ha fatto di nuovo, schiavone. Ci sono evidenze e tracce, qualcosa che possa far sopporre... Signora, le domande le traccio io. Pampaniscus o Bonobo. È noto per la sua propensione a praticare sesso ricreativo. La vedi quella scia bianca, là? Che ha lasciato qualche aereo? Scie chimiche. Vado da mia madre. Marina, sono andata, ragazzi. Prima, mentre mangiavi, ti guardavo. Anch'io ti guardavo. Ma come mai non l'hai buttato, questo? Lo ricordo. È il pennello che ho usato per il mio primo lavoro. Non neanche ci conoscevamo allora. Porta fortuna. Altre volte mi guardo allo specchio. E mi vedo già morto. Perché non mi dici piuttosto che sai benissimo che ha in suba gli occhi? Biglietto d'aereo. Documenti e interrompo più il cazzo. Tu gli ho dato. Ma quella è una merda. Ma che io? Deve morire. È che dovresti imparare a capire quale sono le persone di cui ti puoi fidare, schiavone. Non ti fidi più la mia madre. Rocco, io mi fido di te. Ma sei anche il vicequestore schiavone. Se vuoi fare carriera qui dentro, vedi di farti vedere il meno possibile accanto a me. No. 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 No.